Bella a tutti ragazzi sono Pietutorial e oggi in questo nuovo video vi spiegherò come registrare lo schermo dell'iPhone in questo caso dell'iPhone 4S però state tranquilli che funziona con tutti i tipi di iPhone non credo per l'iPhone 3GS ma dal 4S in su funziona quindi cominciamo subito e non perdiamoci in chiacchiere dobbiamo subito aprire Safari aprendo Safari e ci uscirà la schermata di ricerca noi cosa dobbiamo scrivere? dobbiamo scrivere AirShow aspettiamo il caricamento della pagina e come ci aprirà la pagina ci usciranno vari risultati noi dobbiamo cliccare sul primo risultato ovvero AirShow barra Show TV aspettiamo che carichi che qui internet è un po' lento ecco qui ragazzi come potete vedere ci aprirà subito la schermata di show appunto adesso non ci carica l'immagine vabbè di show con una grossa icona verde con scritto install noi ragazzi dobbiamo installarlo cliccando sulla cosa verde install sul quadratino verde installa sarebbe ci uscirà show tv desideri installare AirShow adesso ho messo a nulla perché l'ho già installato una volta facendo vi uscirà sulla vostra schermata home questa applicazione qui ovvero AirShow quindi una volta cliccata una volta scaricata volevo dire quando la cliccherete adesso a me non me lo fa vedere perché sto registrando ma quando la cliccherete vi uscirà una scritta in cinese con un quadratino verde voi dovete cliccare su quel quadratino verde e vi manderà sul app store vi manderà sull'app store per scaricare quest'altra applicazione qui ovvero Show TV una volta installata anche Show TV cliccando di nuovo su AirShow vi chiederà di loggarvi in Twitter, Facebook o Google voi mettete quello che volete una volta loggati l'applicazione vi si avvierà automaticamente se vi chiederà un codice ragazzi io vi metto un codice vi faccio vedere un codice che c'è qui che purtroppo non si può usare solo una volta però come... adesso non me lo fa vedere comunque si può usare solo una volta perché se io vado a vedere sui miei sui miei codici mi dava solo questo N-E-Q-M quindi ragazzi chi vuole il primo a usare questo codice volentieri glielo lascio volentieri e comunque come potete vedere funziona per registrare come vi farò vedere funziona anche per registrare vari giochi adesso io non metto Clash of Clans perché siccome ho messo la cosa in verticale se vi metto Clash of Clans lo vedete storto metto questo semplice gioco qui comunque ragazzi ho deciso di fare questo video più che altro perché non ci sono video in italiano che trattano su questo argomento qui quindi ho detto perché non farlo comunque vi lascio il link del download di ioshow in descrizione e vi lascio anche il link di un caro mio amico ovvero adesso non mi ricordo il nome però di un mio amico che se volete iscrivetevi al canale lasciate un like e fate la stessa cosa col mio allora nel prossimo video ragazzi io sinceramente non so ancora su cosa basarlo quindi se voi avete un'idea più o meno su cosa farlo basta me lo scrivete sui commenti e io baserò su quello che mi dite voi nel prossimo video adesso aspettiamo che carica dovrebbe aver già finito l'unica cosa che volevo dirvi che nell'iPhone 4S vi lagga un po' perché vi lagga un po' perché il processore è un po' vecchio quindi non non regge questa applicazione più che altro non riesce a a registrare e a giocare anche compreso l'audio a registrare anche l'audio tutte queste tre cose insieme quindi niente ragazzi come potete vedere funziona e questo gioco è anche veloce quindi dovrebbe laggare un po' comunque non ci sono problemi quindi ragazzi questo video è tutto se avete dei problemi scrivetemelo nei commenti comunque dovrebbe essere tutto a posto e quindi niente ragazzi con questo video è tutto noi ci vediamo col prossimo tutorial grazie a tutti